Traffico di droga a Torbella Monaca, blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma. I malviventi erano radicati nel quartiere periferico nel quale avevano la base operativa e logistica. Si tratta di un vero e proprio clan ben strutturato. Al comando una donna 45enne con precedenti penali, la quale gestiva costantemente rilevanti quantitativi di cocaina, circa più di un chilo a settimana. L'organizzazione del narcotraffico gestiva turni per coprire il servizio di spaccio 24 ore su 24 ed erano impiegate giovani vedette che si occupavano di segnalare eventuali presenze delle forze dell'ordine. L'indagine dei carabinieri è iniziata sulla base di quella condotta per l'omicidio di Federico Caranzetti, il 17enne ucciso il 6 gennaio 2014 da un colpo di arma da fuoco, proprio nel quartiere di Torbella Monaca. Emerge che il ragazzo, prima di essere freddato, avesse avuto una violenta lite con uno dei pusher della zona. La società di spaccio prevedeva tre livelli. Al vertice la donna 45enne con il figlio di 25, con ruoli esclusivamente direttivi, i quali si preoccupavano di evitare i contatti con la merce stupefacente. I due dirigevano attentamente e minuziosamente tutto il traffico, coordinando il gruppo e prendendo le decisioni strategiche sull'attività. Sotto i due boss vi era un secondo livello, a cui appartenevano tre figure di maggiore fiducia, che facevano da collante tra i capi e gli spacciatori al dettaglio. I rapporti con i pusher venivano ottenuti da loro tre, che rendevano conto i due superiori dei turni, dei quantitativi di vendita della merce, del ricavo e degli eventuali problemi. Infine nel terzo livello c'erano gli spacciatori al dettaglio, che operavano direttamente con gli acquirenti della droga. Le indagini, grazie a droni posi sopra i palazzi, hanno consentito di ricostruire con esattezza l'organigramma dell'organizzazione e hanno documentato le molte attività di spaccio. Grazie a tutti.